Musica Operazione dell'arma nella zona occidentale di Napoli, 9 arresti e 5 denunce. Incidente a Montella, forgone contro moto, muore una 29enne e la giovane era in sella ad una moto condotta dal fidanzato quando è stata presa in pieno. Forbetti del cartellino all'asla di Caserta, giudizio 25 dipendenti assenteisti. Troffi online, la polizia stradale di Benevento scopre traffico di veicoli rubati. Il maltempo di mezzo è raccolto, delle ciliegie in campania, l'allerta, comparto agricolo in ginocchio. Musica Nuova edizione del Medianews, ben ritrovati, lo abbiamo appena sentito. Controlli da fuori grotta a pianura, operazione dei carabinieri anticriminalità nella zona occidentale della città di Napoli. 9 arresti e 5 denunce. Sentiamo. 9 persone sono state arrestate e 5 denunciate nel corso di un'operazione di controllo del territorio dei carabinieri nella zona occidentale di Napoli, da fuori grotta a pianura. Lopez Manuel Entoni, 21 anni, Emanuele Mangiapia, 21, Clemente Abete, 28 e Rosaria Brandi, 54, tutti residenti in zona e già denunciati in passato, sono ritenuti gestori di una piazza di spaccio allestita al civico 446 di via Evangelista Torricelli. I tre sono in attesa di rito direttissimo. Massimiliano Mormone, 42 anni, residente in via Adriano, detenuto ai domiciliari, è stato sorpreso dai militari in giro per il quartiere. L'arrestato è stato risottoposto ai domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo. Valerio Zungri, 26 anni, già denunciato in passato, e Luca Ferrara, 23, entrambi residenti in via Monti, destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare per concorso in spaccio, sono stati rintracciati, arrestati e tradotti nella casa circondriale di Poggio Reale. Sono stati denunciate 5 persone, soggetti responsabili della violazione dei sigilli, apposti ad una piazza di spaccio al civico 40 in via Tertulliano, all'interno della quale sono stati bloccati dai carabinieri. Una donna di 29 anni, Rosetta Pizza, è morta in un incidente stradale a Montella nell'impatto tra una moto e un furgone. La giovane donna viaggiava a bordo della moto guidata da un 28enne di Salerno che ha riportato gravi ferite agli arti inferiori ed è stato trasferito in eleambulanza al trauma center dell'ospedale Cardarelli di Napoli. I due stavano recandosi al lavoro in un'azienda di informatica della zona. La 29enne, figlia di una dipendente del comune di Montella, laureata da poco, è morta sul colpo. L'autista del furgone in stato di shock è stato ricoverato in ospedale Sant'Angelo dei Lombardi. Sul luogo dell'incidente, in via San Francesco, nell'area industriale di Montella, sono arrivati il sindaco e numerosi dipendenti comunali, colleghi del padre della vittima. Per decisione di tutti i candidati è stata sospesa la campagna elettorale per le amministrative di domenica. I carabinieri della stazione forestale di Forino, nell'ambito di mirati controlli in materia di trasformazione delle aree boscate, hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria tre persone del posto, ritenute responsabili a diverso titolo della trasformazione di un'area boschiva ricadente in agro del comune di Forino, da cedo in Castagneto, da frutto in assenza dell'autorizzazione paesaggistica prescritta per le modificazioni nelle aree tutelate per legge. Alla luce delle evidenze emersi a carico dei tre, scattato il deferimento in stato di libertà alla procura di Avellino per la violazione delle norme e della tutela delle aree vincolate. Furbetti del cartellino all'Asla di Caserta, giudizio 25 dipendenti assenteisti. 25 dipendenti dell'Asla di Caserta in servizio nel distretto numero 13 di Maddaloni, tra i quali cinque dirigenti medici, sono stati rinviati a giudizio dal gruppo di Santa Maria Capoveter, Rosaria dello Stritto, per gli episodi di assenteismo emersi il 15 giugno 2016. Il processo comincerà il 20 aprile 2020. I reati contestati ai presunti furbetti del cartellino sono truffa ai danni dello Stato e false attestazioni o certificazioni in concorso. L'indagine della procura di Santa Maria Capovetere fece molto scalpore perché si concluse mentre entrava in vigore il decreto attuativo della riforma Madia della pubblica amministrazione che puniva gli assenteisti con il licenziamento immediato. Nella vicenda di Maddaloni la norma non fu attuata per qualche giorno. Dalle indagini dei carabinieri, realizzate anche con telecamere nascoste, emerse che medici ed altri addetti timbravano il cartellino avvicinando il badge alla macchina marca Tempo e poi abbandonavano il posto di lavoro per dedicarsi ai propri hobby e altre questioni private. Fu accertata anche la solidarietà tra i dipendenti che timbravano l'uno per l'altro. Due medici dirigenti dell'unità operativa di medicina legale inoltre avrebbero attestato falsamente in alcuni certificati di morte la loro presenza in occasione di decessi per autorizzare il seppellimento. Un imprenditore di Frignano, Giovanni Tessitore, è stato arrestato dai carabinieri del Noe e di Caserta con l'accusa di traffico illecito di rifiuti. I militari hanno sequestrato beni di proprietà dell'imprenditore per oltre 200 mila euro. Tra essi un autocarro cassonato con rimorchio e due pale meccaniche di cui una tipo bobcat usate per movimentare i rifiuti. Ladri avevano contraffatto il numero di telaio e si erano fatti pagare su carte prepagate. Scoperta la truffa dalla Polizia Stradale di Benevento. Sembrava un affare ma in realtà era una truffa ben organizzata. Sfortunatamente per i malviventi si sono imbattuti nella Polizia di Stato. Gli esperti in riciclaggio e traffico illicito di veicoli in servizio presso l'ufficio OPG della sezione Polizia Stradale di Benevento hanno infatti scoperto un traffico online di veicoli provento di furto. pubblicizzati per la vendita su un noto sito di vendite online. Un veicolo rubato e ripulito attraverso la riponzonatura del telaio è stato piazzato ad un ignaro acquirente che lo ha acquistato in buona fede. Il malcapitato, quando non ha potuto formalizzare l'immatricolazione a suo favore, si è recato negli uffici della Polizia Stradale del capoluogo per denunciare l'accaduto. Gli agenti, attraverso i dovuti riscontri, hanno scoperto che l'auto in questione era in realtà oggetto di furto e che il relativo telaio e i riferimenti matricolari erano stati ripuliti e riciclati con i dati di un'altra autovettura dello stesso tipo, realmente esistente e circolante sul territorio italiano. In sostanza si trattava di un clone. Per perfezionare la truffa e i malviventi che avevano artatamente pubblicizzato l'auto sul sito, con carte di identità falsificate, si sono poi materializzati di persona a legnaro acquirente per incassare parte del prezzo pattuito. Gli stessi consegnato il veicolo e la relativa documentazione falsificata hanno quindi chiesto di versare il saldo attraverso apposite carte prepagate che poi sono risultate intestate a soggetti stranieri senza fissa dimora e quindi difficilmente rintracciabili. Anche le utenze telefoniche dei malviventi, immediatamente disattivate dopo l'incontro e lo scambio, sono risultate intestate a soggetti stranieri senza fissa dimora. Sono ad oggi in corso gli accertamenti per risalire ai soggetti coinvolti. E a proposito di truffe presi altri due furfanti in Irpinia. Sentiamo. Continua l'attività dell'arma per impedire la consumazione di truffe in genere. Dopo l'azione di contrasto eseguita con l'iniziativa del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, difenditi dalle truffe, la Compagnia Carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi ha proceduto a deferire all'autorità giudiziaria i numerosi soggetti responsabili di truffe di vario genere ed in particolare per quelle online. E proprio per quest'ultima tipologia di reato, i militari delle stazioni di Leone, all'esito di specifica attività info-investigativa, hanno denunciato in Stato di Libertà, la Procura della Repubblica di Avellino, due giovani del posto già note alle forze dell'ordine. I predetti venivano notati dai militari operanti, mentre prelevavano del denaro da uno sportello bancomat. Da un successivo controllo delle movimentazioni compiute si accertava che i medesimi avevano utilizzato una carta ricaricabile intestata ad uno di loro, sulla quale risultavano effettuati numerosi versamenti da parte di persone truffate, residenti in vari comuni italiani, che, a tratte dal prezzo oltremoto conveniente dell'oggetto, fittiziamente messo in vendita online dai malfattori, non esitavano ad effettuare il pagamento, ma non ricevevano la merce acquistata. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e di conseguenza i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremoto convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti rubati. È divampato un incendio all'interno dei locali di un opificio dell'Alto Molise. Le fiamme hanno interessato diversi locali al suo interno ed è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco di Isernia e Agnone per domarle. I primi a intervenire sul posto sono stati i carabinieri. Al momento non ci sono elementi per racchiarire le cause del rogo. Il maltempo di mezzo è il raccolto delle ciliegie in Campania. Arriva l'allarme e il comparto è in ginocchio. Sentiamo. Strage di ciliegie e quindi difficoltà, se non totale, impossibilità di approvvigionare i mercati. Proprio al culmine del periodo produttivo, le anomalie meteorologiche stanno causando danni enormi ai frutti da raccogliere. Grandinate, vento forte, ma soprattutto le piogge torrenziali che portano ad una spaccatura del frutto stanno compromettendo la stagione in molti areali vocati alla sua produzione. Lo sottolineano con fagicoltura e col diretti che con i propri tecnici sul territorio stanno monitorando la situazione. Gravi problemi si sono registrati nelle aree vocate d'Italia e anche nella provincia di Salerno. Complessivamente la coltivazione riguarda in Campania circa 1.700 ettari con una produzione di circa 7.000 tonnellate all'anno ed una quota importante in provincia di Salerno. Da una prima stima, dicono i tecnici, riteniamo che le avversità atmosferiche abbiano già portato ad un dimezzamento dei raccolti. Da alcuni anni in Italia ed in provincia è in atto un processo di profondo rinnovamento culturale del ciliegio con l'introduzione di nuove varietà e portainnesti. Si registrano quindi aumenti delle superfici coltivate e incrementi produttivi. L'Italia è il quinto produttore mondiale di ciliegie e il primo in Europa. Purtroppo le anomalie meteo di questa primavera stanno vanificando molto del lavoro dei cerasicoltori italiani. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella rende noto che i contributi per i buoni libro sono in liquidazione. La prossima settimana la banca Unicredit per evitare code comunicherà i giorni in cui gli eventi di ritto potranno regarsi presso gli sportelli per la riscossione delle somme spettanti. Scuola di Polizia Locale a Benevento corso di tecniche operative. Il vicecomandante Bosco invita tutti gli agenti della provincia a partecipare. Il comando della Polizia Municipale di Benevento annuncia che la scuola regionale di Polizia Locale ha organizzato il corso di formazione tecnica e operative di polizia della durata di 30 ore. Esso si svolgerà nella sede della scuola di Piazzale Gramazio dal 29 maggio al 13 giugno dalle 8.30 alle 13.30 nei giorni di mercoledì e giovedì. I colleghi della Polizia Municipale della provincia di Benevento spiega il vicecomandante della Polizia Municipale del capoluogo Fioravante Bosco possono iscriversi contattando direttamente la scuola regionale di Polizia Locale. Partecipare a questo corso è molto importante poiché verranno analizzati i comportamenti da tenersi in caso di fermo, arresto, ispezione e perquisizione da effettuarsi in caso di necessità. Formazione importante dunque soprattutto in tema di circolazione stradale e non solo un'occasione per rafforzare la propria preparazione, una bella opportunità per il corpo di polizia in costante evoluzione che tende al miglioramento della propria professionalità. Domenica 26 maggio si terranno in Italia le elezioni europee. I cittadini in questa data saranno chiamati a votare i membri del prossimo Parlamento europeo. Come si vota alle elezioni? Chi può votare e quando si vota? Sentiamo. Manca ormai poco alla data delle prossime elezioni europee quando i cittadini di tutti i 28 paesi comunitari saranno chiamati a scegliere i nuovi deputati del Parlamento UE. In Italia si voterà domenica 26 maggio dalle 7 alle 23 mentre negli altri stati membri si vota in date diverse. Si parte infatti dal 23 maggio ma i seggi verranno chiusi in tutti i paesi alle 23 del 26 maggio. Gli italiani saranno chiamati a votare domenica 26 dalle 7 alle 23 per l'elezione dei nuovi deputati europei. Per votare ogni elettore riceverà una sola scheda fatta eccezione per i comuni dove si voterà anche per le elezioni amministrative o in Piemonte per le regionali. La scheda avrà un colore diverso in base alle 5 circoscrizioni. Sarà grigia per gli elettori di nord-ovest marrone per quelli del nord-est rossa per chi andrà al voto al centro Italia arancione al sud e infine sarà rosa per gli elettori della circoscrizione isole. Il calcolo dei voti comunque viene eseguito su base nazionale solo in un secondo momento su base circoscrizionale. In sostanza se una lista prende il 5% su base nazionale otterrà il 5% dei seggi in ogni circoscrizione ferma restando la soglia di sbarramento al 4%. Tutti i candidati in Italia sono divisi all'interno delle 5 circoscrizioni con i principali partiti che si presentano su tutto il territorio nazionale con le loro liste. Il paese che elegge più eurodeputati è la Germania, 96, mentre l'Italia, così come il Regno Unito, ne ha 73. In Italia si vota con un sistema proporzionale puro scegliendo la lista preferita dall'elettore. Ad oggi il Parlamento europeo è composto da 751 membri e con il rinvio della Brexit il numero dovrebbe rimanere invariato. Ricordiamo che il 26 maggio sarà un election day per la Campania dove 178 comuni saranno chiamati al voto anche per il rinnovo della carica di sindaco e del Consiglio Comunale. Unico capoluogo, Avellino. A Piedrelcina la sacra reliquia del cuore di Padre Pio la reliquia da oggi rimarrà fino al 27 a Piedrelcina in occasione dell'anniversario numero 132 della nascita di San Pio è custodita la chiesa conventuale Sacra Famiglia l'ultima volta il cuore era arrivato nel paese natale del Santo nel 2013. Il giorno del Piccolo Gabri i volontari dell'Associazione Donatori in Midollo Osseo hanno allestito a Piazza Dante di Napoli dei Gazebo per l'iscrizione al registro e il tampone salivare utili a cercare un gemello genetico per un bambino di 20 mesi dal sangue napoletano affetto da una sindrome congenita rarissima che conta solo 20 casi nel mondo. Sentiamo. C'è tesa in Piazza Dante a Napoli alla ricerca di un donatore compatibile con Gabri lui, il piccolo, è affetto dalla SIFT sigla di una malattia rarissima l'anemia sideroblastica con immunodeficienza delle cellule B febbri periodiche in ritardo dello sviluppo. Il suo è l'unico caso in Italia in Piazza Dante nel capologo i volontari dell'Admo hanno allestito i gazebo per accogliere chi vorrà sottoporsi al prelievo di saliva sperando che tra i donatori si trovi una o magari di più persone che siano compatibili con Gabri. In Piazza c'è anche Monica la zia del piccolo di quasi 20 mesi. Gabri ha una sindrome rara la SIFT praticamente una malattia genetica rara lui è l'unico caso in Italia ci sono 20 casi in tutto il mondo dall'esperienza di Gabriele ci siamo resi conto che siccome Gabriele necessita il trapianto di midollo per contrastare alcuni effetti di questa sindrome il più importante è l'immunodepressione ci siamo resi conto che in Italia siamo un po' indietro rispetto alla cultura e alla conoscenza reale di cosa significa essere donatori di midollo osseo abbiamo quindi chiesto aiuto all'Admo l'Admo Italia l'Admo Regionali al Comune di Napoli e altri comuni che ci hanno dato disponibilità e creato delle occasioni per tutti i ragazzi tra i 18 e i 35 anni che vogliono entrare nel registro Admo è semplice basta un tampone salivare di pochi secondi anche la donazione quello che stiamo cercando di trasferire come informazione non è un intervento non è invasivo qualora si avessero la fortuna di essere il tipo giusto per qualcuno si verrà contattati e la donazione avviene attraverso una semplice trasfusione di sangue un po' più lunga ma una trasfusione di sangue non è un intervento chirurgico è importante che si sappia che oggi si è qui per Gabriele ma non solo per Gabriele partiamo da Gabriele per raccogliere più tipi giusti per tutti i bimbi e ragazzi che ne hanno bisogno siamo allo sport e calcio Aurelio De Laurentiis compie 70 anni i calciatori aspettano la giornata di sabato per fargli un regalo la vittoria a Bologna e il raggiungimento di 82 punti in classifica traguardo che Carlo Ancelotti si era prefissato subito dopo aver ottenuto la matematica qualificazione alla Champions League e il secondo posto in classifica alle spalle della Juventus al presidente è arrivato comunque il messaggio augurale di tutta la squadra attraverso le parole del capitano Lorenzo Insigne De Laurentiis però ha poco tempo da dedicare ai festeggiamenti le ultime voci riguardano l'esterno destro di difesa dell'Empoli Giovanni Di Lorenzo e il Napoli avrebbe chiuso la trattativa nelle ultime ore Serie B conferenza stampa di Bucchi il tecnico giallorosso del Benevento incontra la stampa in visita del match di sabato contro i Veneti del Cittadella sentiamolo loro sicuramente sono una squadra forte che gioca con questo sistema di gioco da tanti anni quindi sanno bene cosa fare è una squadra come ho sempre detto fastidiosa ma nel fastidioso io ci metto tante cose positive non è una cosa negativa anzi è una squadra che sa giocare si conosce molto bene lo stesso allenatore lo stesso gruppo di lavoro ha tanti anni quindi insomma è una squadra che fa sempre la sua partita come lo dovremmo fare noi quindi per me la partita d'andata non esiste la mettiamo là è stata una bella partita ci ha dato tante risposte positive tante cose positive ma non esiste quindi giochiamo come se fosse 0-0 giocheremo per vincere e attaccheremo quindi questa sarà la partita che noi come Benevento dovremmo fare poi ci sono gli avversari sicuramente ci saranno i momenti in cui ci metteranno in difficoltà ci saranno i momenti in cui li metteremo in difficoltà come ogni partita all'interno della quale poi ci saranno degli episodi dei momenti dove dovremmo essere bravi in entrambe le fasi ovviamente nel saperli gestire e capitalizzare era questo l'ultimo servizio vi lascio in compagnia delle prisioni del tempo e con il resto dei nostri programmi arrivederci alla prossima edizione Grazie a tutti Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento elaborato da ilmeteo.it Previsioni per sabato 25 maggio Un vortice ciclonico raggiunge i nostri mari causando un graduale peggioramento del tempo dapprima sulle regioni settentrionali poi anche su quelle meridionali ma ecco il dettaglio realizzato come sempre da ilmeteo.it Al nord è deciso aumento della nuvolosità sui settori occidentali in particolare su Liguria e Ovest Emilia ma poi anche su tutto l'arco alpino e prealpino con piogge e locali temporali con grandine Tempo più soleggiato sulla pianura veneta e sull'Emilia Romagna orientale Al centro cielo poco nuvoloso su gran parte delle regioni Nel pomeriggio lo sviluppo di qualche temporale potrà interessare l'Umbria Al sud generali condizioni di bel tempo su tutte le regioni salvo per temporani ed innocui annuvolamenti Il tempo tenderà a peggiorare verso sera con prime precipitazioni sulla Sicilia I venti soffieranno dai quadranti meridionali Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste Di notte i valori toccheranno punte minime di 6 gradi e non supereranno i 17 gradi su tutta l'Italia Durante il giorno attendiamo fino a 24 gradi sia al nord sia al sud Fino a 23 gradi invece al centro Inizio a 24 gradi Grazie a tutti.